Sono passati esattamente 41 giorni da quel 14 settembre, giorno del vertice a Parma, dove le due province, in particolare quella ducale che ha svolto i rilievi, promettevano di fornire gli esiti degli stessi in un mese. In ritardo di 11 giorni, ecco la verità, la peggiore o meglio quella che tutti temevano. Il ponte Casalmaggiore-Colorno è giunto quasi alla fine del suo ciclo di vita. Ne danno il triste annuncio le due province che hanno spiegato in un comunicato congiunto Parma-Cremona martedì mattina attorno alle 10.30 che, come leggiamo dal testo, occorre piena consapevolezza che eventuali interventi saranno interventi tampone non risolutivi con una durata di vita utile del manufatto inferiore a 10 anni e che comunque non possono prescindere da un intervento di monitoraggio continuo da attuarci con le più avanzate tecnologie. Ecco perché serve un nuovo ponte sul po' con un costo alto e tempi di realizzazione non inferiori a 5 anni. Intanto però che fare? La soluzione tampone è la sostituzione e sistemazione di almeno 25 travi sulle oltre 70 complessive con un costo di circa 5 milioni di euro e un anno di tempi di realizzazione. La portata del ponte per i transiti merci sarà garantita dopo i lavori fino a 20 tonnellate, quindi comprenderà anche gli autobus di linea. Controindicazioni, il ponte non sarà transitabile per tutta la durata dei lavori, un anno appunto. Inoltre, l'intervento ha un carattere provvisorio, non risolve l'incognita delle evoluzioni negative delle altre travi, in quanto il degrado complessivo del ponte è destinato a continuare. Niente apertura a senso unico alternato, come qualcuno sperava, anche per i tempi di attese enormi che andrebbero a crearsi. Tra un anno però potrebbe esservi un'apertura, come detto, a doppio senso di marcia, donando così al ponte gli ultimi anni di vita utile. Si parla anche di mobilità sostenibile. Nel comunicato i costi a sostegno del trasporto su gomma assommano 240.000 euro su base annua, oltre al costo del monitoraggio continuo, per circa 30.000 euro l'anno. La quota parte relativa all'annualità 2017 sarà a carico della provincia di Parma. Genericamente si parla di potenziamento dei servizi ferroviari che però per il momento lasciano desiderare come. Da oggi comunque si apre un nuovo capitolo, spiegano Davide Viola, presidente della provincia di Cremona, e Gianpaolo Serpagli, delegato alla viabilità per la provincia di Parma. Da oggi al Ministero delle Infrastrutture si va con una richiesta ben precisa e intanto i cittadini si organizzano. Stasera alle 21 presentazione in Auditorium Santa Croce a Casal Maggiore del comitato apolitico Treno-Ponte col compito di raccogliere istanze e problemi di tutti i soggetti interessati dalla chiusura. Una presentazione che avrà un dato, finalmente certo in più, il ponte di Casal Maggiore, nato nel 1958, è giunto ormai al termine dei suoi giorni.